In collaborazione con Will Frontalieri, BIM, Bacino Imbrifero Montano del Ticino, CGL, ECAP, CNA. BORDER STORI DI CONFINE BORDER STORI DI CONFINE Lezioni che non hanno portato a grandissime sorprese, però qualche piccolo cambiamento, qualche segnale di cambiamento, comunque forse gli elettori lo hanno dato. Ci aspettano quattro anni importanti, vedremo come si muoverà la politica, anche in ambito di trasporti. Tra l'altro, esatto, il tema dei trasporti sicuramente era un tema centrale. È sembrato che si parlasse un po' meno in campagna elettorale del tema dei frontalieri che è emerso un po' solo nelle ultime battute della campagna elettorale e poi se ne è parlato forse di più in chiave frontalieri post-voto, mentre in realtà nella campagna elettorale il tema era rimasto un pochino sotto traccia. Diciamo che il tema del trasporto è abbastanza importante in questo momento perché proprio a dicembre il Consiglio federale ha approvato un messaggio che prevede la modifica dell'autostrada da Lugano a Mendrisio. Quindi verranno stanziati 1,7 miliardi di franchi per aumentare, tra parentesi, le corsie e quindi per rendere l'autostrada più scorrevole, creando delle gallerie. Questo significa che avremo molto più traffico nei nostri paesi di confine. Allora, prima di andare avanti e partire proprio dal traffico di questa sera, non bisogna andare lontano per parlarne, do il benvenuto anche a Raffaele Erba, buonasera, si è collegato con noi, Movimento 5 Stelle e esperto proprio tra l'altro di tematiche legate al traffico, alla mobilità e alla mobilità sostenibile. Allora, ripartiamo dal traffico di oggi per arrivare qui dalla Svizzera, già oggi la situazione era critica, i lavori sull'autostrada A9 sicuramente influiscono, ma non è l'unico problema. Tra l'altro vedevo che comunque sui portali svizzeri un po' l'invito era quello alla prudenza, e più che alla prudenza anche alla pazienza. Come dire, al traffico ci dobbiamo rassegnare, non ci sono alternative in questi momenti di esodo particolarmente importante, probabilmente non ci sono alternative. Qual è subito un giro di pareri su questa impressione che appare un pochino, che traspare un po'? Dunque, io sono partito alle 6 da Lugano e sono arrivato a Como alle 19.45, uno stress pazzesco perché pensavo di non riuscire ad arrivare in tempo. Quindi è tutto dire. Io credo che questa questione del traffico, ovviamente, è intimamente connesso al traffico del lavoro transfrontaliero, è inutile nascondersi dietro un dito, perché al di là dell'aspetto dei lavori che sono puntualmente, poi questa è una zona particolarmente fortunata, diciamo, perché se solo si confronta con quello che accade un po' più in là, da Verbania a Locarno, forse qualcuno capisce anche per la morfologia del territorio. Però dovremmo cominciare a ragionare sul fatto che qui c'è un problema strutturale che non può essere semplicemente scaricato sulle persone che vanno a lavorare. C'è un problema strutturale di come si affronta il problema del traffico, cioè di come si affronta il problema della mobilità in generale, che, ancora una volta, lo diceva prima il collega, viene affrontato sul tema del trasporto su rota, del trasporto su gomma, sostanzialmente, e ancora una volta sull'automobile. L'allargamento della corsia autostradale va benissimo, ovviamente, diciamo, al di là degli impatti ambientali che questo determina, però ancora una volta l'approccio è quello. C'è un grande tema che va affrontato e che è il percorso con i treni, che sono puntualmente affollati, e nonostante l'accordo fatto con la regione Lombardia nel 2018, rinnovato, è ancora sottostimato. C'è il tema totalmente non affrontato dell'attraversamento dei laghi, che ovviamente è più interessante per il Lago Maggiore, un po' meno per il Lago di Como, ma diciamo che, a maggior ragione, nel momento in cui arriva la nuova stagione, la stagione del turismo, al lavoro, bisogna sommare pure il turismo, quindi diventa ancora più complicato, ed è un tema mai affrontato. E soprattutto c'è il tema del trasporto pubblico, quello degli autobus, le linee di autobus. Siamo ancora fermi alla discussione, ormai da anni, sul cabotaggio internazionale, cioè sulla possibilità di attraversare la frontiera con i pullman. E dobbiamo dircelo, se a questo sommiamo l'abitudine ormai scomparsa, insomma, di quella degli anni passati, di condividere la macchina, di andare in due o tre nella stessa macchina, ormai basta stare alla dogana e vedere che ogni macchina ha un automobilista dentro, punto, fine. Questa roba non si risolve nemmeno con le infrastrutture. Bisogna evidentemente immaginare che il sistema del traffico sia la componente, il combinato disposto fra almeno questi tre temi. Ripeto, sui laghi non si è nemmeno aperta la discussione. Penso per esempio... Anche sugli autobus ben poco. Anche sugli autobus ben poco, certo. Sentiamo anche Erba. Allora, sicuramente è un tema che ha un grosso impatto sulla qualità della vita, sia di chi fa, comunque per un tagliere, sia di chi si sposta dalla Svizzera all'Italia, ma anche per i nostri territori, perché comunque le congestioni del traffico noi le viviamo e le subiamo. E allora dobbiamo capire come poter affrontare questo problema. Innanzitutto dobbiamo metterci la testa, studiando, studiandolo, recuperando dati. Questa è la prima cosa da dover fare per poter pianificare. Perché, come si diceva, le possibili soluzioni o comunque le componenti a poter risolvere o comunque ad affrontare seriamente il problema sono tante. C'è, come si è detto, il trasporto pubblico, il trasporto anche via lago, che può essere interessante, soprattutto per quello che è una certa mobilità per i turisti, una mobilità dolce, ma poi c'è anche il tema dello smart working, cioè andando a ridurre alla fonte quello che è la necessità di spostamenti. Purtroppo anche questo è un tema che i frontaglieri e anche i nostri territori hanno subito, diciamo dal 31 gennaio di quest'anno, nel momento in cui non è stato rinnovato l'accordo amicale tra Svizzera e Italia su quello che è appunto la regolamentazione d'emergenza per il Covid per l'adozione dello smart working, che comunque andava ad alleggerire il traffico che comunque aiutava anche poi dopo a conciliare meglio la vita e il lavoro di tanti frontaglieri. Ecco, questo per dire, sono un insieme di ambiti che diciamo uno insieme all'altro possono essere interessanti per poter affrontare il problema. E allora abbiamo toccato un altro tasto aperto, ovviamente quello del telelavoro si inserisce anche nella questione della mobilità. I Verdi del Ticino hanno interpellato il Consiglio di Stato, ci torniamo tra pochissimo subito dopo la pubblicità. Bentornati, allora ripartiamo proprio dai Verdi del Ticino e dalle richieste. Avete interpellato il Consiglio di Stato proprio per porre l'attenzione sui temi ancora irrisolti, legati al traffico trasfrontaliero. Quali sono in particolare? Beh, guardi, c'è stata la questione del posteggio di Gaggiolo Cantello, dove fino a qualche mese fa vi erano tanti frontalieri che posteggiavano la loro auto fuori zona, fuori posteggio. E questo comportamento era tollerato. Improvvisamente il comune di Gaggiolo Cantello ha allestito un posteggio, diciamo, riservato alle persone che abitano in quel comune e quando questo lavoro è stato terminato hanno cominciato a dare molte a chi era fuori posteggio e quindi tanti frontalieri si sono ritrovati senza più poter utilizzare il mezzo pubblico, quindi il treno, lasciando la loro vettura alla stazione. È vero che ci sono altre possibilità, però sono molto scomodi e quindi dal nostro punto di vista occorreva adottare altri provvedimenti. Allora, su questo poi andremo a sentire anche la voce del Sindaco, tra l'altro. Andiamo però magari a sintetizzare anche quali sono le altre difficoltà, i progetti che ancora non sono stati completati, dei quali si parlava e che vanno comunque a complicare il tema della mobilità a cavallo del confine. Ma guardi, siamo in un periodo importante perché fra poco verranno pubblicati i bandi di concorso per i nuovi progetti Interreg. Infatti, questo era chiaramente un tema a cui volevo arrivare. Ecco, e questa è l'occasione per poter andare ad implementare tutte quelle misure che potrebbero permettere di risolvere parzialmente il problema del trasporto pubblico nelle nostre zone. Io penso ad esempio a Smisto o ad altre idee che sono state già in qualche modo portate avanti, lanciate, eccetera. Poi si fatica sempre però forse poi ad arrivare a chiudere i progetti. Sì, beh, diciamo che Smisto è stato un progetto importante, è stato il progetto che ha permesso di finanziare i posteggi alla stazione di Cagliolo Cantello. Il problema è che si sono rilevati in numero completamente insufficiente. D'altra parte, appunto fra qualche mese verranno pubblicati i bandi di concorso, quindi i gruppi di interesse, in primo luogo la Regione ma anche i comuni, dovranno fare in modo, a mio parere, di aumentare il numero dei posteggi. D'altra parte di adottare altre misure, tipo la mobilità lenta, le piste ciclabili, per poter arrivare alla stazione di Cantello rispettivamente alle altre stazioni, magari utilizzando anche appunto la bicicletta. Ecco, allora, prima ne andrà a sentire appunto anche la voce del sindaco, però volevo sentire anche da Ugrusa e da Erba il punto. Cosa è stato fatto? Cosa è in sospeso? Cosa si dovrebbe fare? No, il tema, torno a questione dei progetti Interreg. Ovviamente la programmazione adesso è partita, nella seconda parte ragionevolmente del 2023, ci saranno i bandi di gara, quindi le call per potervi partecipare, bisogna evitare di ripetere quello che abbiamo fatto in passato, perché da un lato Smisto ha dimostrato che ovviamente i parcheggi di interscambio sono, come dire, uno strumento importante, ma al tempo stesso che sono insufficienti e che quindi, dall'altra parte c'è stato per esempio, vorrei ricordare, un bel progetto che si chiamava Lupo, che non aveva niente a che fare con l'animale di che popola peraltro quelle zone, ma era il collegamento via Lago tra Lugano e la Vena Ponte Tresa, che è stato bocciato. Allora, il punto è questo, bisogna ricordarsi che i progetti Interreg sono progetti sperimentali, cioè non sono progetti strutturali. Per la loro durata, i 24 mesi o i 36, o addirittura i microprogetti, sono delle operazioni sperimentali, il che vuol dire che servono a verificare se, fatta una sperimentazione, questa può essere poi consolidata, ma per consolidarla non sono più sufficienti quei fondi, servono fondi strutturali. Oggi c'è una grande discussione, ahimè in ritardo in Italia sul PNR, tutto sommato il problema è questo, cioè fare delle cose sperimentali per poi poterle consolidare. Vuol dire che i due paesi devono fare degli investimenti su questo, altrimenti rischiamo di fare operazioni che vanno a termine, che non producono nulla, addirittura appunto a brevissimo termine. Vediamo nei prossimi progetti Interreg, una cosa è certa, noi dobbiamo riaprire la questione della navigabilità dei laghi, magari con mezzi ecosostenibili, non necessariamente a motori elettrici per esempio. Erba? Io sono un grande sostenitore della famosa elettrificazione della Comolecco, che può essere unita al Tilo, diciamo uno strumento molto importante per comunque dare un'alternativa a chi fa il pendolare frontaliere oggi attraverso il mezzo privato, a quello che può essere una mobilità su ferro, una mobilità che permette attraverso, come dicevo, il treni Tilo, da partire da quello che è comunque dalla Svizzera, ad arrivare a quello che può essere Molteno, passando da Como, da Cantù e da quello che è comunque una certa porzione dei nostri territori, che sono residenza di molti dei frontalieri che si troverebbero ad avere un'alternativa. Questo progetto è finanziato con il PNRR, adesso con gli ultimi chiari di luna, la preoccupazione, visto che insieme a Galimberti, che è una delle persone, al comitato dei pendolari Comolecco, c'è stato un grosso impulso per cercare di portare questo progetto a compimento. Oggi ci sentiamo dire, perlomeno dalle ultime novità, che certi progetti con il PNRR sono a rischio. Ecco, questo, come ho detto, è un progetto che potrebbe dare sollievo ai nostri territori, che oltre a ridurre quello che è l'impatto del traffico, andrebbe anche a ridurre l'impatto dell'inquinamento, perché ricordiamo che la pianura padana, ma anche la Brianza e l'Alta Brianza sono molto colpite da quello che è la situazione inquinamento. Legambiente ha messo comunque Como e tutta la nostra provincia, insieme anche alla pianura padana, tra i luoghi più inquinati d'Europa. E quindi servono alternative, anche per la nostra salute. Su questi temi è sufficiente, chiedo a tutti, la collaborazione tra le istituzioni da una parte e dall'altra del confine, tra Ticino e Regione Lombardia. Regione Lombardia, va bene, ha appena cambiato il Consiglio regionale, ha appena cambiato la Giunta, quindi ovviamente sono state elette le commissioni, adesso si tratta di entrare nel vivo con il nuovo mandato, ma la collaborazione a livello istituzionale è sufficiente su queste tematiche? Ma, vede, dal mio punto di vista, prima della collaborazione vengono gli accordi internazionali. Abbiamo pensato prima alla questione del cabotaggio, ovvero non è possibile introdurre nuove linee di bus dall'Italia alla Svizzera. E questo è un problema che deve essere risolto. Già sono stati fatti dei piani, già sono stati misurati i flussi, già sono state fatte delle tracce, direi, provvisorie e non si capisce perché non si riesce a risolvere il problema. D'altra parte, si potrebbe anche utilizzare i bus che dalla Svizzera passano vicino alle Dogane. Per esempio, a Bizzarone passa la Mendrisio-Chiasso, la Chiasso-Mendrisio, che potrebbe portare tanti frontalieri da Bizzarone alla stazione di Mendrisio, rispettivamente di Chiasso, oppure altre tratte e da questo punto di vista spero che nel prossimo quadriennio si possano trovare delle soluzioni. È necessaria ma non sufficiente per le cose che venivano appena dette. La Regione Lombardia, parlo sul fronte italiano, ha ovviamente alcune competenze, ma non ha le competenze sui trasporti specifici, né sul lato della Custra e men che meno sul lato del cabotaggio internazionale. Però è necessaria, nel senso che, se posso dirla così, la Regione Lombardia invece di occuparsi sempre solo di fisco, che peraltro non le compete, diciamo, a Costituzione vigente, ce lo ripetiamo tutte le volte, forse potrebbe occuparsi e fare azione rispetto alla soluzione di un problema enorme come quello del traffico, come quello della mobilità in generale. E quindi, per esempio, facendo iniziativa, anche insieme a noi, nei confronti del Ministero dei Trasporti, perché questi due temi, cabotaggio e navigabilità dei laghi, possa tornare ad essere di attualità, perché è stato sostanzialmente abbandonato. Certo. Ecco, Erba, la Regione, il ruolo della Regione, e tra l'altro sul fronte della navigazione sono state fatte ripetute proposte di regionalizzarla, anche in questo caso che poi in realtà non si sono mai concretizzate. Sì, purtroppo non c'è stata appunto una regionalizzazione del servizio. Diciamo che comunque se si riuscisse a costituire anche un tavolo di coordinamento più stretto con i territori, penso che possa essere già questo un inizio, anche per potersi coordinare meglio con un trasporto veramente integrato. ecco, basterebbe il dialogo più stretto, perché attualmente anche semplicemente il coinvolgimento per quello che sono comunque gli orari, le pianificazioni, ecco, se ci fossero dei tavoli più, diciamo, di collaborazione più stretti, potrebbero essere già comunque questi, già questo un inizio. Ecco, questo per dire che basterebbe una maggior volontà, soprattutto da parte di Regione, di cercare almeno delle collaborazioni. Il progetto Interreg potrebbe essere fatto in questa direzione, da un lato per monitorare i flussi di traffico, soprattutto nei nostri territori, quelli rivolti comunque nei territori di frontiera con la vicina Svizzera e in questo, diciamo, in questo monitoraggio, in quello che possono essere anche delle integrazioni come modifiche orari per quello che riguarda la navigazione, potrebbe esserci un coinvolgimento e quindi, ecco, per dire, uno strumento che potrebbe coniugare le varie esigenze. Però, ripeto, serve la volontà, su questa Regione Romandia magari dovrebbe essere un po' più decisa. Nel vostro documento, Piffaretti, si fa riferimento anche alla possibilità di creare un gruppo interpartitico proprio per affrontare in modo trasversale i temi legati alla mobilità. Intanto volevo capire qual è stata la reazione, se c'è già cosa vi aspettate, se c'è comunque una collaborazione all'interno dei partiti del Ticino su questo fronte. Guardi, abbiamo una commissione per i trasporti del Mendrisiotto e del Basso Ceresio la quale si occupa di queste questioni. D'altra parte è una questione prettamente regionale, di conseguenza cercheremo di fare in modo, anche sulla base delle risposte che riceveremo, di affrontare il problema. Ma da parte nostra c'è la massima sensibilità per cercare di modificare le abitudini dei frontalieri, quindi di cercare di fare in modo che possano utilizzare il mezzo pubblico. D'altra parte negli ultimi anni sono stati fatti degli investimenti straordinari. Il numero dei bus è aumentato, le percorrenze sono aumentate, l'utilizzo è stato aumentato, abbiamo visto i numeri del Tilo, infatti i dati record e quindi da parte nostra c'è la massima disponibilità. Ecco, il tavolo della Regione Subrica può essere in qualche modo l'organismo che va a sbloccare la situazione, che va a fare da coordinamento oppure comunque, come sempre, poi in quel caso si rischia di rimanere troppo sulla carta? La Regione Subrica sulle intenzioni c'è, nel senso che nel piano programma approvato c'è la riapertura di una discussione sul fronte dei trasporti. La Regione Subrica, però, lo diciamo da sempre, dovrebbe avere un ruolo, avendo dentro tutte le istituzioni, sia quelle ticinesi che quelle lombarde piemontesi, dovrebbe avere un ruolo di lobbying rispetto al lobbying, in senso anglosassone ovviamente, rispetto al governo italiano e al governo svizzero. Cioè, essere... Sì, dovrebbe far arrivare le istanze del territorio anche a... Quella dovrebbe essere la funzione. ...a un governo che spesso sembra lontano o comunque difficilmente rendersi conto delle... Su alcuni temi questo è accaduto, la sensazione è che accade soprattutto su quei temi dove in realtà le competenze e le deleghe sono locali, mentre sulle questioni dove le deleghe sono del governo, questo accade un po' meno, nel senso che bisognerebbe essere meno spettatori e più da pungolo rispetto ai due governi di Roma e Berna. Allora, abbiamo parlato della situazione della stazione di Gaggiolo, delle polemiche per le multe. Andiamo a sentire anche la voce del sindaco a vedere cosa succede alla stazione di Gaggiolo e il servizio di Silvia Legnani. 250 multe in un mese e questo è il risultato. Un parcheggio ordinato qui alla stazione di Gaggiolo-Cantello, un parcheggio che per anni è stato un'area di sosta selvaggia ed è polemica per l'insufficienza di posteggi per i frontalieri che ogni giorno prendono il treno per avvarcare il confine e andare al lavoro. Come raccontato dal sindaco e documentato attraverso delle foto, fino a poco tempo fa le auto parcheggiate arrivavano ad occupare la rampa d'ingresso dell'area fino alla rotatoria. È una polemica che ormai si trascina da diverso tempo ma che ha avuto il suo apice nell'ultimo mese, ovvero da quando abbiamo deciso, d'accordo con la polizia locale, di intervenire in maniera decisa, elevando sanzioni a tutti i lavoratori o comunque i fruitori del treno che lasciavano le auto in divieto di sosta in maniera assolutamente sconsiderata e selvaggia. Siamo intervenuti in maniera repressiva, lo riconosco, le multe danno fastidio in qualunque circostanza, quindi questo posso anche comprenderlo, però vi erano compromesse le più elementari norme della pubblica sicurezza perché nel caso in cui di un incendio, di qualsiasi incidente, i mezzi di soccorso non sarebbero mai potuti arrivare fino alla stazione a causa delle auto in divieto di sosta. Iniziata l'azione repressiva da parte della polizia locale, le auto avrebbero iniziato a spostarsi per le vie del paese. Purtroppo l'esito è stato di avere a questo punto la frazione Gaggiolo, ovunque vi sia un minimo spazio libero, è occupato dalle auto dei lavoratori frontalieri che devono utilizzare il treno. A me dispiace molto perché comunque la disponibilità dell'amministrazione anche ad indicare delle aree a loro disposizione in cui il parcheggio è libero, fruibile, sono state più volte segnalate, ma penso che a questo punto non ci sia proprio una volontà di accogliere anche le segnalazioni da parte dell'amministrazione. La polemica nasce anche da un'area del parcheggio che è riservata ai residenti di Cantello Gaggiolo. Questa è stata la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso perché ha inspiegabilmente innescato una specie di invidia da parte dei lavoratori frontalieri che trovavano inspiegabile il fatto che un'amministrazione comunale tutelasse i cittadini di Cantello riservando loro un'area dedicata all'interno della stazione. Sono stata criticata e attaccata in maniera veramente inaccettabile. I frontalieri hanno promosso una raccolta firme online per richiedere la realizzazione di nuovi parcheggi nell'area della stazione. Io non farò altro che girare a RFI in modo tale che siano loro poi a dare una risposta in questo senso. Obiettivo del sindaco è garantire la vivibilità del paese. Leggo spessissimo che i lavoratori rivendicano questo diritto ad avere il posto auto per andare a lavorare. A questa affermazione rispondo che altrettanto i cittadini di Gaggiolo hanno diritto ad avere uno spazio, un ambiente, un territorio in cui vivere in cui siano innanzitutto rispettate le regole e che non diventi un hub parcheggio tipo Malchpensa perché non ha nessun tipo di senso. La morfologia del territorio comunale è questa e non può essere stravolta per garantire dei parcheggi a gente che comunque non è neanche del paese. Una situazione limite che è diventata terreno di scontro che ha messo anche un'amministrazione locale contro in qualche modo gli stessi frontalieri è un problema che si risolve però con parcheggi adeguati oppure con soluzioni alternative che permettano ai frontalieri di arrivare per poter prendere il treno in modi diversi. Questo mi pare eloquente rispetto al fatto che si diceva che questo è un problema di sistema non può essere lasciato al sindaco di un piccolo centro la soluzione questo mi pare abbastanza evidente, non entro nella cherella ovviamente ognuno ha le sue ragioni però è del tutto evidente che o tu riesci a costruire un meccanismo che nel suo complesso è in grado di soddisfare quei flussi che peraltro voglio dirle sono un aumento perché abbiamo discusso più volte dei numeri dei frontalieri e tendenzialmente vecchio un nuovo accordo fiscale si prevede un aumento del 5% all'anno legato all'economia svizzera quindi tendenzialmente è evidente che questo problema se non viene risolto può solo peggiorare non può essere scaricato né ai sindaci al tempo stesso non può essere lasciato alla guerra tra i poveri tra virgolette cioè tra i lavoratori e le istituzioni locali perché non ha veramente senso c'è un problema di sistema, i problemi di sistema vanno affrontate con iniziative più larghe di sistema che vuol dire treni che vuol dire tutte quelle forme appunto la costruzione di un parcheggio non credo possa farla la sindaca che è stata peraltro molto chiara su questo c'è un problema di investimento vero insomma Quale sarebbe Pifaretti secondo lei la soluzione più corretta? Ma guardi, prima di tutto devo affermare che questo servizio è molto triste perché illustra perfettamente la situazione e dietro alle parole del sindaco ci sono delle persone che ogni mattina si alzano alle 6 per poter andare a trovare un posteggio e magari cominciare a lavorare alle 8 quindi è una situazione assolutamente insoddisfacente ora chi sono io per venire a proporre delle soluzioni nel comune di Cantello? dal mio punto di vista bisognerebbe cercare di quantificare il numero dei frontalieri e di cercare di coinvolgere i comuni limitrofi in modo di poter poi costruire un posteggio o un autosilo che vada a soddisfare la richiesta Ecco Erba, lo diceva prima, effettivamente partire magari dai numeri capire come ci si possa organizzare diversamente per poi non trovarsi in queste situazioni Infatti il problema di base sta nella pianificazione Io perlomeno quando ero consigliere regionale ho portato in diverse occasioni diciamo in commissione sia in commissione energetica ma anche in commissione quinta che è quella delle infrastrutture una serie di esempi su come pianificare sono veramente dei fantastici esempi che attraverso i big data attraverso quello che sono comunque degli algoritmi complessi qui RSE piuttosto che Nelix hanno realizzato per Milano ma anche per altre realtà degli esempi, delle sperimentazioni molto interessanti e allora, ripeto, la base sta nella pianificazione da lì si può capire anche qui un'altra considerazione quanti di chi perlomeno magari oggi si trova a dover parcheggiare tutti i giorni magari prima in modo alternato visto che c'era lo smart working poteva magari ogni due, ogni tre giorni ecco, andare a parcheggiare perché c'erano magari un'alternanza tra momento di presenza e momento invece di smart working e quindi poteva evitare quello che era diciamo l'utilizzo del mezzo privato o comunque dell'utilizzo della macchina per raggiungere la stazione infine, dico anche questo c'erano delle risorse che potevano essere impiegate per azioni magari per la costruzione di nuovi parcheggi che era la famosa legge 9 di Regione Lombardia il famoso piano Marshall che però non ha avuto alla base una individuazione delle misure più, come posso dire, prioritarie o comunque più nevalgiche per una serie di visioni di insieme anche del traffico ecco, questo per dire sempre fondamentale la pianificazione ma come dicevo bisogna crederci e metterci la testa Volevo leggere anche qualche messaggio e domanda dei telespettatori Sì, velocemente siccome Raffaele Erba ha parlato di risorse e ha fatto riferimento alla legge però vorrei ricordare che noi, se c'è una cosa che non mancano sono le risorse in questo caso cioè noi stiamo parlando di aree di confine che nei 20 km hanno 360 comuni tra tutte insomma diciamo che in quest'area è l'area più alta densità vorrei ricordare che ci sono i ristorni fiscali e che quei ristorni fiscali al 50% sono per spese di investimento lo abbiamo definito bene non solo nel nuovo accordo fiscale ma anche l'anno scorso quindi 50% spese correnti e 50% spese di investimento io credo che le risorse non ci sono è chiaro che bisogna lavorare non chiedendo alla sindaca da sola di fare un'operazione ma chiedendo al gruppo dei comuni di quell'area di trovare un accordo anche in questi termini le risorse non mancano è l'unica cosa che non manca chiede ad esempio un telespettatore per risolvere il problema del traffico perché non sono state mai proposte navette, bus intercomunali che portino alle stazioni più vicine e potenziare la frequenza dei treni si eviterebbe di concentrare le persone in pochi parcheggi strapieni e anche di far viaggiare tutti su gomma collaborazione tra i comuni torniamo un po' al punto però forse resta da capire chi deve occuparsi di fare la regia beh però io adesso voglio dire dal punto di vista noi abbiamo un po' di enti che ogni volta che devono dire qualcosa la dicono poi quando devono fare qualcosa in realtà spesso non la fanno abbiamo certamente la regione abbiamo le province che sono state di fatto svuotate completamente ma che hanno alcune competenze abbiamo le aree montane cioè abbiamo tutto il sistema istituzionale che la Svizzera ci critica perché dice che è sovrabbondante e qualche volta lo diciamo anche noi e tuttavia esistono le competenze ed esistono le risorse perché questo non è certo una zona depressa da questo punto di vista è chiaro che bisogna fare un'operazione di sistema non so se tecnicamente vanno bene le navette o va bene qualcos'altro certamente il tema non lo risolviamo con lo smart work adesso lo dico perché lo smart work è un altro problema però non ci risolve il problema non a quel livello perché ripeto questo è solo l'inizio del problema perché in queste condizioni economiche a maggior ragione in questa condizione adesso con l'entrata nell'accordo fiscale questa cosa è destinata ad aumentare allora è evidente che o i comuni e qui c'è l'associazione dei comuni di confine che io credo possa perché ne ha le competenze prendere in mano la situazione e avviare una campagna di questo tipo cioè provare a mettere intorno a un tavolo i soggetti per utilizzare insieme magari in un progetto comune quella quota dei ristorni che possono servire sugli investimenti per esempio per la zona di Gaggiolo c'è un telespettatore che segnala che sono state anche eliminate delle linee del trasporto pubblico di bus ad esempio cita C74 e C75 che erano realizzate proprio per i frontalieri in quella zona e collegavano i paesi alla stazione di Cantello che sono linee che appunto secondo lui dovrebbero essere ripristinate torniamo a quello che forse che manca un coordinamento che metta dagli attori del trasporto pubblico alle istituzioni tutte attorno a un tavolo e volevo chiedere una cosa a Piffaretti non l'abbiamo sentito più di tanto in questa campagna elettorale lo dicevo è stata un po' quasi sottotono sul tema dei frontalieri però spesso dal Ticino sono partite anche richieste anche un po' provocatorie ad esempio addirittura di bloccare le auto in arrivo dall'Italia con una sola persona a bordo ma sa voglio dire su quale base si potrebbe adottare una misura di questo tipo d'altra parte insomma i frontalieri sono indispensabili per la nostra economia di conseguenza non possiamo bloccarne l'entrata dobbiamo cercare di favorire diverse misure affinché si possano muovere in maniera più intelligente ripeto la mobilità lenta io personalmente mi dico spesso a lavorare in bicicletta potrebbero collegare i paesi vicino a Cantello potrebbero collegare paesi vicino agli autobus che vengono utilizzati in Svizzera anche nella regione di Chiaso oggi con le biciclette elettriche è molto più comodo e d'altra parte tante piccole misure penso che possano diciamo limitare il problema del traffico oggi vediamo che da Bizzarone a Lugano dalle 6 di mattina alle 9 di mattina a Colonna è impossibile utilizzare l'auto quindi dobbiamo trovare assolutamente delle soluzioni peraltro appunto lo dicevamo i dati dei treni soprattutto dei Tilo comunque in realtà hanno fatto registrare numeri in forte aumento anche numeri record però evidentemente con l'aumento anche del numero di frontalieri comunque questo non è non è ancora sufficiente servono interventi molto più drastici sul fronte dell'alternativa al trasporto privato credo ci ricordiamo quell'episodio che era accaduto a metà della pandemia più o meno quando improvvisamente le ferrovie svizzere avevano bloccato per circa 48 ore 24 ore per eccesso di zelo avevano bloccato i treni tutto sommato quando quella cosa ha messo in evidenza come il numero di persone bloccate forse di qualche migliaio non di più su un volume complessivo in Ticino in particolare di 77 mila ricordiamo che sono 84 mila se aggiungiamo gli altri due cantoni questo dimostra in modo plastico che in realtà il trasporto su rotaia è largamente sottodimensionato quindi questo tema c'è nonostante siano state fatte cose importanti è vero che Tilo ha fatto dei numeri importanti ma è del tutto evidente che con questo volume con questi flussi non sono sufficienti allora quando si dice che serve un ragionamento di sistema serve qualcuno che faccia un'operazione di coordinamento a livello territoriale e io penso come dicevi prima che forse Reggio Insubrica potrebbe assumersi questo compito avendo al suo interno le istituzioni sono poi altre segnalazioni anche ad esempio da Ponte Chiasso ci torniamo tra pochissimo subito dopo la pubblicità bentornati a Bordera allora siamo ormai nella parte finale della trasmissione sono ancora tante le domande le proposte ad esempio abbiamo parlato della zona della stazione di Gaggiolo ma per esempio anche Ponte Chiasso perché non si usano gli spazi per degli autosilo chi come me tutte le mattine deve prendere il treno a Chiasso spera di non incappare in multe durante la giornata è appunto un tema che si ripropone un po' in tutte le zone dove ci sono delle stazioni che possono essere al servizio anche dei lavoratori frontalieri il tema del parcheggio sicuramente scoraggia anche l'utilizzo poi del mezzo pubblico diciamo che a me capita di lasciare l'auto a Chiasso non ricordo in che via comunque con 5 franchi al giorno è possibile lasciare l'auto e questo è un servizio molto comodo proprio davanti alla polizia comunale ecco immagino però che non sia ovviamente un parcheggio illimitato quindi è chiaro che torniamo al solito punto può essere un servizio comodo ma sono sempre un numero di parcheggi comunque difficilmente sufficiente a coprire le esigenze di tutti i lavoratori frontalieri diciamo che non ho mai trovato il posteggio completamente occupato quindi è possibile ma certo che per l'italiano 5 franchi forse per l'italiano no non è quello ma il problema è l'attraversamento della frontiera ovvero bisogna trovare delle soluzioni in Italia perché attraversare la frontiera potrebbe far perdere alla persona una trentina di minuti in certe frontiere e di conseguenza bisogna trovare prima dei posteggi allora voglio lasciare un breve spazio anche per l'accordo fiscale perché anche se non è il tema comunque le domande sono tante ed è giusto fare il punto solo un flash finale secondo chiedo a tutti e tre la priorità in questo momento ragionando anche in chiave Interreg sul tema della mobilità il primo progetto da portare avanti Augurusa? beh sicuramente la questione del trasporto pubblico su gomma inteso quindi l'autobus e la navigabilità Paretti? sono d'accordo entrambi quindi allo stesso modo il trasporto pubblico che sia su lago e su rotaia guardi io sul lago ci credo poco d'altra parte vi è la questione della mobilità lenta quindi la bicicletta le vie ciclabili sicure e il trasporto pubblico su gomma è molto importante d'altra parte i posteggi ne abbiamo parlato durante tutta la trasmissione Erba? sicuramente i due progetti che hanno menzionato sono molto importanti io aggiungerei però anche quello relativo a un progetto di monitoraggio dei flussi di traffico perché innanzitutto per poter diciamo affrontare il tema della pianificazione ci serve monitorare quelli che sono i flussi di traffico e allora potrebbe essere interessante appunto avviare un progetto integro con le università magari del Ticino e la nostra o Politecnico quindi o dell'insubio del Politecnico per poter avviare un importante monitoraggio dei flussi perché così almeno riusciamo a capire come affrontare il problema ecco infatti a proposito di flussi c'è un altro telespettatore che dice che il blocco dei treni durante il covid sicuramente aveva coinvolto meno persone perché in fase di pandemia pochissimi usavano poi mezzi pubblici e invita adesso il comune di Como a reinvestire i ristorni per i temi dei frontalieri lo abbiamo detto è chiaro che è un tema perché se poi i comuni hanno a disposizione le risorse hanno le risorse dei ristorni se non le utilizzano è chiaro che questo va a creare ulteriori 89 milioni ci sono a disposizione di cui il 50% per spese per investimento quindi stiamo parlando malcontati di 45 milioni di euro insomma tutto sommato ci sarebbero i soldi in tutta la fascia ovviamente sì tra l'altro fondi dei ristorni fondi interreg cioè come dicevamo il tema della mancanza di risorse non è il problema in questo momento quando si parla di soluzione sul tema della mobilità siamo ai minuti finali e allora torno un attimo al tema dell'accordo fiscale perché appunto non è l'argomento ma le domande sono tante anche legittime e intanto uno dei primi temi sui quali ancora non è stata data una risposta definitiva è l'entrata in vigore effettiva e l'entrata in vigore della distinzione tra vecchi e nuovi frontalieri non c'è stata data una risposta definitiva ma a questo punto siamo autorizzati a dare noi l'interpretazione definitiva perché contrariamente a quello che era stato detto anche qui dal sottosegretario il dato vero è che l'accordo fiscale entra in vigore se approvato adesso a fine aprile alla Camera il primo gennaio 2024 fatto salvo l'articolo 9 che è quello che interviene sui permessi G quindi sulla condizione vecchia e nuove frontalieri la clausa di salvaguardia e quindi questo interviene da quello che capiamo dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e dopo lo scambio di lettere tra i due governi che è questione evidentemente di qualche ora insomma quindi ragionevolmente io credo oggi le persone che mi chiamano perché sento queste persone per sapere quando interviene l'accordo dico fate in fretta se volete stare nel vecchio regime perché è probabile che da giugno da giugno 2023 questo accordo potrebbe essere già legge già si fa per dire visto che è stato firmato nel 2020 però questa è la cosa e è l'interpretazione che a questo punto ci sentiamo di dire autentica e si va a creare un ulteriore periodo di interregno che va ancora di più a scombussolare però un po' le carte sì certo dopodiché bisogna ricordare che appunto l'accordo internazionale e il memorandum è stato firmato il 23 dicembre del 2020 quindi tutto sommato insomma allora scopo c'è anche chi ci chiede chi ha già lavorato come frontaliere se venisse riassunto nuovamente se vale vecchio frontaliere o nuovo frontaliere c'è una data c'è la data del 31-12-2018 cioè da quella data all'entrata in vigore supponiamo 30 giugno 2000 30 primo giugno 2023 supponiamo in questa fase chi ha versato un contributo all'AVS come frontaliere rimane nel vecchio sistema chi ha lavorato 5, 10, 20 anni fa è un nuovo frontaliere non è più nel sistema vecchio quindi questo avrà delle conseguenze Pifaretti secondo lei dal vostro punto di vista dalla Svizzera come la vedete avrà delle conseguenze sul numero di frontalieri cosa vi aspettate con l'entrata in vigore dell'accordo ma è difficile dire mi immagino che sicuramente avrà delle conseguenze queste persone potranno rimanere in telelavoro perché per loro non cambierà praticamente nulla d'altra parte più di questo non so che dirle ma essere frontaliere sarà meno vantaggioso questo è chiaro dal punto di vista fiscale sicuramente allora noi siamo arrivati per questa sera siamo arrivati al termine però questo della mobilità è un tema fondamentale si aprono i bandi Interreg e sarà sicuramente importante andare a capire cosa succede andare a capire se ci saranno poi delle proposte dei risultati concreti sul tema della mobilità quindi ovviamente continueremo ad occuparcene cercheremo poi nelle prossime puntate invece di dare qualche risposta ulteriore sull'accordo qualcosa abbiamo detto ma anche su telelavoro e ahimè assegno unico perché ancora anche in questo caso siamo fermi senza risposte certe e definitive quindi ovviamente tanti ci fanno domande i temi aperti sono ancora tanti io per questa sera ringrazio Raffaele Erba ringrazio Filippo Piffaretti ringrazio Giuseppe Augurusa e chi ci ha seguito questa sera Border torna mercoledì prossimo buona serata in collaborazione con Will Frontalieri BIM Bacino Imbrifero Montano del Ticino CGL ECAP CNA CGL CGL